se un giro vuoi fare i... no, io ho fatto andare bene ok piano i corsi cox, piano i corsi cox piano i corsi cox vai via il freno 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 Lo richiamo alla giococcia, un cork, fai l'accelerazione via, vai con il gas via Cork, ci sto arrivando Presa in centrale, vorrei capire che stai, ok Gas, poi c'è la rinforzata, c'è la rinforzata, c'è la rinforzata Gas, fuori largo Vai, 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 stai su gas via, c'è la rinforzata Pena, via, freno, dentro in cura Puoi stai vicino, vicino, vicino Se ci vai sul gas però non ci riuscirei mai a stare vicino Perché lì tu dentro vai a cercare la torre e stai senza gas Quindi ti aiuta a prendere la torre Ok, via, gas, fuori là, via che andiamo In cordoni no, eh No, scusami Cambio di direzione Abbiamo in sport, quindi un successivo in sport In ricambio, vedrai che sarà più veloce In ricambio marcia, è molto più diretta No, è bella, bella reattiva In sport adesso sarà ancora più reattiva Getty in a wake aiforme Yeah No No E' un freno, un freno, un freno Un freno, un freno, un freno, un freno Un freno, un freno Un freno, un freno, un freno Bellissimo Domeniamo all'esterno, facciamo la traiettoria del piano Con il freno, un freno Ah questo è da gusto, è molto preciso Un freno, un freno, un freno Un freno e un freno Un freno incredibile Un freno incredibile in Inanore le nuove le tue e la farà è in? si